Eccoci qua, quando fa una cosa, e mi ha iniziato, mi hai tagliato, quando fa una cosa, lo fa. Certo, per chi guarda il video tagliato è importante iniziare a mezza frase. Questa sera vi parleremo di un gioco portato, dicevamo, a Play come novità da MS Edizioni e parliamo in particolare di Fort, senza punto sclamativo. Un gioco molto forte. Mi dissocio. Gioco edito in origine da Leather Games. Strano perché MS non ha un rapporto di lavoro con Leather Games. Un gioco di Grant Rodieck, illustrato magistralmente da Kyle Farrin e si nota anche dalla grafica e dalle illustrazioni, infatti, che sono molto vicine a quello che è il mondo di Root come stile, che è questo stile proprio di Kyle Farrin, che è molto 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 caratterizzato. Anche se, invece di parlare di animalini, topolini, gattini, aguile, lucertole... Si parla di terrificanti ragazzini. Io ero molto restia. Molto. Molto, molto, molto. E tra l'altro, come appunto dicevamo, da poco MS ha annunciato che porterà l'espansione. Cani e gatti. Sto dicendo, fortunatamente non ci sono altri ulteriori ragazzini, ma ci saranno cani e gatti. Andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola di... Un regolamento! Un bellissimo regolamento, scritto molto 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 bene, devo dire, ben fatto, con iconografia ben distribuita, insomma, ben spiegato tutto al posto giusto. All'interno, posso dire una cosa del regolamento? Sì, certo e puoi. Nel regolamento sono state fatte delle scelte che sono quelle di utilizzare più perifrasi o comunque una modalità di traduzione del gioco, del testo, più vicina a quello che è il testo originario, ovvero cercare di non utilizzare il maschile sovresteso. Sì, diciamo che MS è un editore italiano molto vicino, molto attento alle tematiche di questo tipo, quindi abbiamo anche parlato tempo fa di quella sorta di libro game, avventura, dove avevano introdotto la Chua. Sì, assolutamente. Quindi, diciamo, hanno fatto... Che è una scelta molto più forte, sia chiaro. Molto forte, quindi hanno fatto diversi esperimenti, diciamo, in questo senso. Qui hanno forse trovato, e questa è una mia opinione personale, una giusta via di mezzo, ovvero hanno limato, eliminato dove possibile il maschile sovresteso e hanno però lasciato in tonza la grammatica italiana, il che rende la lettura molto, molto fluida, però, insomma, sempre con attenzione. Andiamo a vedere i componenti, via il regolamento che ci dà noi. Abbiamo una plancia tracciato punti vittoria, che servirà anche a indicare la zona di carte del parco, che starà in mezzo al tavolo, sostanzialmente. Abbiamo poi quattro plancettine, un po' più leggerine, che sono dei player aid, dove ci sono spiegate molto, 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 molto bene tutte le icone di gioco. Quindi partiamo dai simboli, che servono a fare dei set collection durante il gioco, alla spiegazione di tutte le azioni e le altre icone che troviamo nelle variazioni. Quindi, questi molto grandi, molto ben leggibili, nonostante il... Nulla di carattere 0,5, ma tutto carattere ben leggibile, bravi da questo punto di vista, perché giusto l'altra sera mi sono trovato in mano un gioco che... Per cui non ne vediamo il nome, ma quando ne parleremo, perché ne parleremo? Era un player aid con un sacco di spazio vuoto e del carattere, penso, due. Cioè, io ci vedo discretamente, diciamo, ma facevo fatica a leggere le notine in basso, perché è veramente minuscolo. Poi abbiamo le planche giocatore, sono quattro, il gioco è da due a quattro giocatori, sono due a layer e ognuna di essa ha sul retro il setup fondamentalmente di quel giocatore, perché ognuno di noi avrà due migliori amici, quindi in base a quale prenderemo, avremo i migliori amici e la plancia di colore. Ciao Max, come si sta qui a queste latitudini? Ciao Max, buonasera, come si sta qua su? Un po' più fresco? Non tanto, mi sa. Sicuramente c'è un tasso di umidità migliore che sul tevere. Ah, quello di sicuro. Dicevamo, planche due a layer che hanno varie zone, il cortile davanti, e poi spiegheremo a cosa serve mettere le carte qua fuori, poi abbiamo il nascondiglio, sotto cui andremo a nascondere le nostre carte in questo modo, e poi abbiamo lo spazio delle nostre cose, che è sostanzialmente il nostro inventario di base, dove andremo a mettere i nostri giocattoli e la nostra pizza, che sono le due risorse del gioco. Che sono le due risorse che ti servono nella vita vera, i giochi e la pizza. Esatto. È un gioco in realtà che parla di noi, è un po' autobiografico, no? E poi abbiamo lo spazio... Allora, io non sono mai stata una ragazzina da cortile, o da parco. Perché non c'è ne galline. Un complimento. Non sono mai stata una ragazzina, cioè io stavo a casa, leggevo, mangiavo pizza. Ma torniamo al gioco. Poi abbiamo lo zaino, che è uno spazio in cui andremo a conservare alcune risorse spostate da qua, quindi aumentando il limite di quelle che possiamo possedere, e poi il livello del nostro fortino. Perché, come dice il titolo, l'obiettivo del gioco è di fatto avere più amici, avere il fortino più figo degli altri. No? Completano la dotazione i segnalini, per l'appunto che Shelly ha preso, che sono i segnalini pizza, e i segnalini giocattoli, che sono degli esagonini, eccoli qua, con la pizza e la scatolina di giocattoli, che andremo a posizionare... Ti sembra che tu hai domandato perché la scatola della pizza è quadrata e invece la pizza è tonda? Perché la scatola tonda è una minchiata a livello di organizzazione scomoda? Però ottagonale... Questi sono esagoni comunque... Esagonale, come la Francia. Cioè, abbiamo qua lo spazio per posizionare... Metti dell'altra pizza, che... Per posizionare pizza e giocattoli, e non potremo averne più di quattro per tipo, a meno di non spostarne alcuni attraverso specificazioni sullo spazio dedicato allo zaino. Abbiamo poi dei cilindretti, due per giocatore, uno da posizionare su questo tracciato dei punti, e l'altro a indicare il nostro livello del fortino. Infine abbiamo carte, delle carte piccole speciali che faremo vedere dopo, e le carte amici, che sono tutte uguali. Carte bambino. Abbiamo, contraddistinte da una stellina, le carte migliore amico, e sono due per ogni giocatore, e sono quelle... Un jolly. E sono quelle, e rimangono quelle, sono di due tipi sostanzialmente. Sono una carta con un'azione di miglioramento del fortino, e una carta con jolly, con della presa di risorse. Ma come funziona il gioco? Sostanzialmente, andrò nel mio turno a giocare una carta, ad esempio questa, eventualmente potendola potenziare con carte dello stesso tipo, quindi con la stessa icona. li avessi in mano. Ad esempio, in questo caso vado a giocare questa carta, che ha l'icona... E' la mia carta! ...pistola d'acqua. No, è la mia carta! E' la tua carta, sì. Poi parleremo dei design, dei personaggi e dei loro nomi, che sono una parentesi a parte meravigliosa. Ogni carta ha due azioni, una sopra e una sotto. L'azione sopra potrà essere al costo di una carta dello stesso tipo, che deve essere scattata dalla mano, copiata da tutti gli altri giocatori. Quindi, in questo caso, io posso andare a distruggere dalla mia mano una carta per ogni simbolo, pistola d'acqua che ho. Se ce ne aggiungo un'altra, posso farlo due volte, fondamentalmente. E questa azione specifica mi consente un po' di pulire il mazzo per farlo girare più rapidamente, perché c'è una piccola componente, diciamo, di deck building. L'azione sotto è invece un'azione esclusiva di chi ha giocato la carta. Quindi, prima, il capo, cioè il giocatore attivo, fa la sua azione. Gli altri, se vogliono, copiano il capo, perché è figo, sta facendo le sue cose in quel momento, e quindi, eventualmente, scartano carte per fare quell'azione. Però, in questo caso, per scartare carte, chi copia deve avere questa... Certo, deve scartare carte dello stesso tipo. Quindi, ad esempio, ora questa carta un po' particolare, facciamo, ad esempio, che ne so... Questa... Posso mettere una risorsa nello zaino per ogni skateboard. La gioco, ne posso fare una, ci aggiungo un'altra carta skateboard, se la trovo, non la trovo, ne faccio due, tre, e così via. Eccola qua. Oppure posso aggiungerci un jolly, che sono quelle con le monetine. Ecco qua, carta skateboard, e lo faccio due volte. Poi, come azione privata, rubo una risorsa, dallo zaino di un avversario. Quindi, come azione privata. Che non può essere copiata. Che non può essere copiata, è solo mia. Dopo che ho fatto tutte le mie azioni, copiato, aggiunto carte in più, eccetera, spostato con azioni particolari, carte dentro al nascondiglio, e così via. Vado a posizionare tutto quello che mi è rimasto nella mano sul mio cortile. tranne eventualmente i migliori amici che vanno a finire nei miei scarti. Perché i migliori amici sono i migliori amici, non ti abbandoneranno mai, neanche nelle giornate più buie, quando si bugano i palloni. Ma prima di fare questo andremo a reclutare altri bambini. Perché siccome ho giocato, ho fatto le mie azioni, sono figo, recluto nuovi bambini. Che vanno a finire direttamente. Vado quindi a prendere da tutti, a scelta dal parco, che è un mercatino comune al centro del tavolo, e dai cortili degli altri avversari, vado a scegliere una carta che mi piace, me la prendo e me la metto direttamente negli scarti. Dopodiché quelle che ho in mano le andrò a mettere nel mio cortile per essere eventualmente reclutate. Dopodiché dal mio mazzo coperto andrò a riprendere la mia mano di cinque carte. Starà quindi al giocatore dopo di me che toglierà via tutte le carte rimaste dal suo cortile, se le metterà negli scarti e dalla mano che aveva formato alla fine del suo precedente turno andrà a fare di nuovo la stessa cosa. Quindi giocare una carta, eventualmente potenziarla se l'azione lo richiede, gli altri potranno copiarla scartando una carta con lo stesso simbolo, poi lui farà l'azione esclusiva, scarperà queste carte, recluterà, la metterà negli scarti, metterà tutto nel cortile e pescherà di nuovo. E così avanti, avanti, avanti. Nonostante le azioni durante il turno del giocatore possano sembrare banali, semplici e ripetitive, vi posso assicurare che è estremamente complicato creare una strategia a questo gioco. Beh, intanto c'è il bilanciamento diciamo tra cercare di giocare molte carte in modo che queste vadano a finire negli scarti e tenersi quelle buone sostanzialmente. Quindi reclutare ogni volta altre carte quindi far crescere il mio mazzo cercando di massimizzare una strategia, una singola strategia quindi magari avere tante carte dello stesso tipo che è quello che hai fatto tu. Che è quello che ho provato a fare io nell'ultima partita che abbiamo fatto e quindi crearsi un mazzo però molto grande che gira molto lentamente ma tutto quello che gira è tutto buono perché è tutto diciamo sulla stessa linea. Oppure oppure cercare di giocare poche carte oppure fate il metodo metodo Shelly giocare poche carte quindi con un mazzo molto molto piccolo che gira molto velocemente quindi reclutare poco o reclutare qualcosa che poi scartate. Esatto o distruggere carte o distruggere carte con azioni specifiche. chiaramente quando ho risorse a sufficienza posso andare a fare l'azione diciamo principe quella che dà il nome al gioco che è questa azione qui con la manierina e il più che è l'azione di migliorare il mio fortino. Migliorare il mio fortino per passare dal livello 0 al livello 1 mi servono due risorse qualunque poi mi serve una pizza un gioco e una risorsa qualunque poi due pizze due giochi e una qualunque tre pizze tre giochi tre pizze tre giochi e una risorsa qualunque più è potente il fortino e più bambini c'entreranno dentro ma soprattutto più punti mi darà vabbè era tanto bella questa cosa dei bambini che giocano la pizza il giocattolo il fortino punti aumentare il fortino mi dà punti mi dà la possibilità di acquisire le carte speciali che ora vedremo la prima la acquisisco a livello 1 poi una a livello 2 e l'ultima a livello 5 e determina anche la fine della partita è uno dei modi inoltre mi aumenta la capacità di queste due riserve qua ovvero lo zaino che contiene risorse 1 più il livello del fortino a mia scelta quindi a livello 0 contiene al massimo una risorsa e al massimo ne riesce a contenere 6 e stessa cosa per il nascondiglio che conserva per sempre una più livello del fortino carte quindi fino a 6 carte a cosa serve conservare carte in nascondiglio intanto non ti appesantiscono il mazzo intanto non possono esserti rubate perché non finiscono mai nel cortile ma soprattutto sono simboli gratuiti che puoi aggiungere alle tue azioni che hai sempre a disposizione ma brava complimenti continuo a buttare acqua a terra a annaffiare tutto ci mettono una piantina da sotto per la prossima volta almeno l'annaffi dicevo simboli gratuiti per le mie azioni a posto stai per sputare l'acqua dai fanno in diretta nazionale ce la puoi fare l'abbiamo persa perfetto dicevamo prima delle carte speciali sono di tre tipi abbiamo ce l'ha fatta non farò commenti sulla cosa abbiamo vabbè la carta primo giocatore ovviamente abbiamo intanto la carta scultura di maccheroni la scultura di maccheroni viene ottenuta dal primo che porta il fortino a livello 5 da 4 punti a fine partita ma soprattutto attiva la fine della partita quindi terminato il round in corso finisce la partita come tutti i giochi dove è importante sapere chi è il primo giocatore così tutti i giocatori giocheranno se sono i turni esatto poi ci sono degli oggetti speciali dei premi che sono ottenuti da chi porta il fortino a livello 3 c'è un mercatino composto da uno più numero di giocatori viene scelta la carta che voglio e qua stanno cercando di e ci sono carte fai da te scambio di favori riciclo baruffa buon compleanno è tutto molto molto tematizzato ma sostanzialmente vanno ad ampliare le possibilità questi si prendono a livello fortino 2 a livello fortino 3 per esempio zaino xxl 2 il tuo zaino può contenere due risorse aggiuntive quindi invece che uno più il livello del fortino è tre più il livello del fortino sono delle migliorie le altre ma le migliori le tue preferite sono queste sì queste carte si chiamano regola inventata no ma è acqua è acqua non è gin tonic ma stasera è acqua no raga fa troppo caldo le regole inventate sono meravigliose sono le tue preferite ad esempio tu a un certo punto siccome hai fatto il fortino di livello 1 le regole inventate sono così è migliorato e quindi perché si chiamano così perché non le peschi da un mercatino scoperto ma le peschi coperte sì e ti prendi il re della festa e tu dici io sono il re della festa e siccome sono il re della festa ma stiamo più triste questa festa se tu sei il re a fine partita prendo un punto per ogni carta che è un nascondiglio e siccome il re della festa sono io la regola l'ho inventata io e vale solo per me allora diciamo il fatto che questa è appena migliorata il vostro fortino con due risorse a vostra scelta è la prima carta che vi darà punti a fine partita che prenderete o che comunque altererà leggermente il vostro tipo di gioco rispetto a quello degli avversari durante la partita essendo un gioco che si 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 rivolge sopra anche a un pubblico di giocatori ma anche ma soprattutto a un pubblico di nuovi giocatori alle prime esperienze dare una regola inventata nascosta che vale solo per te di punteggio di fine partita quasi subito ai primi turni aiuta tantissimo i giocatori a indirizzare la propria strategia da una parte piuttosto che da un'altra questa è la pizzata la pizzata questa è la mia la regola inventata la pizzata a fine partita ottieni un punto per ogni pizza che hai no ogni pizza ti sei maniato no te la mangerai poi non mi piace non tu dice amici per sempre c'è l'illustrazione meravigliosa con i braccialetti che ha scritto best friend forever che dice a fine partita ottieni un punto per ogni simbolo diverso che hai i simboli quelli che abbiamo visto prima sulle carte escluso la monetina che è i jolly se li hai tutti e sei ottieni un punto in più ho deciso così me la sono inventata io la regola è questa cosa gli piace da morire meravigliosa il salvadanaio il piccolo fine giocare forte con Andy è come giocare di ruolo ma si dai è meraviglioso ora vi voglio far vedere la cosa la cosa che mi ha rattristato di più è stato il fatto che a non c'era pizza l'ultima sera abbiamo giocato non c'era pizza perché io avrei giocato con le fette di pizza vere e me l'ha impedito perché secondo lui si ungeva il gioco nonostante l'ha imbustato cioè ci sono dei personaggi meravigliosi e B e B B non me lo ricordo non mi ha fatto fare la scultura di maccheroni cioè volevo fare i maccheroni a formaggio per fare la scultura di maccheroni e non me la faccio mi ha detto no fa caldo per accendere il forno accenditelo a casa tua parentesi sulla caratterizzazione dei personaggi e milioni di complimenti a MS per come sono stati tradotti sì assolutamente perché sono stati tradotti veramente bene facciamo alcuni esempi cioè questo è il bambino appassionato di previsioni meteo c'è una specie di carta climatica con i venti le nuove si chiama Sandy Meteora quello è il fatto corrioli Sandy Meteora poi abbiamo questo che assomiglia a Vermilingue si chiama Grima ragazzi è un po' gobbo un po' bruttino con un palantino in mano testina vediamo qualcun altro meraviglioso bambina su sedia a rotelle Lady Ochi questi venocchi non so io stavo pensando a quella di Aya bambino sul sul monopattino sganappio poi c'è il coso che è bambino vestito da football ma con anche una pistola poi c'è il bambino che corre si chiama gas ma secondo voi è davvero pensato anche per i giocatori le prime esperienze chiede Max ma si è è molto semplice non è cioè non ha particolari eccezioni il turno è molto molto veloce hai sempre cinque carte in mano quindi non hai e il fatto di dover allora ci sono una serie di cose che mi fanno pensare che sia rivolto anche a giocatori non alle prime cioè non il primo gioco cioè il primo gioco io immagino Santorini il ras e il quartiere Jojo Polpetta il primo gioco della vita io immagino più un Santorini o un Ticket to Ride diciamo una roba del genere anche Santorini è una roba talmente semplice i due appassionati di Art Attack Stacca no Tacca e Stacca vabbè dove Tacca è scritto Tacca e Stacca invece è scritto con la K giustamente per distinguere le due gemelle il fatto di le sorelle talpa appassionate di scavi ovviamente archeologici il fatto di avere solamente 5 carte in mano il fatto di avere appunto la regola inventata che ti dà un indirizzamento su quale tipo di su quale cosa puntare nel marasma di possibilità che hai e la necessità costante di tenere l'attenzione non solo sul tuo gioco ma anche sul gioco degli altri perché interagisci con i cortili degli altri giocatori secondo me sono chiari segnali il bambino con il carretto e il casco si chiama Nicky ma così come i gemelli Kasparov bambini che leggono bambini russi che leggono secondo me sono chiari segnali del fatto che il gioco è rivolto a giocatori che vogliono approfondire il mondo del gioco non è un primo gioco non è un entry level questo sicuramente no però giocatori da occasionali che diventano assidui forse sì anzi direi proprio di sì in tutto ciò le illustrazioni aiutano la caratterizzazione dei personaggi la localizzazione la tematizzazione così forte aiuta sicuramente a trasportare il giocatore in questo mondo indietro nel tempo sostanzialmente io l'ho trovato estremamente piacevole e lanciamo cose e tra l'altro trovo l'interazione estremamente gradevole cioè nonostante ti freghi i bambini perché te li prendi dall'altro cortile quindi te li levi a vicenda e ovviamente questo interagisce anche sulla strategia che dovrà andare a fare l'avversario perché se io vado a prendere tanti bambini dal parco i miei avversari si troveranno implicitamente con più carte se li levo dai loro cortile cortili ridurrò i loro mazzi certo quindi c'è questa interazione ma stai andando un pochino oltre che ti permette di comunque di di poter adattare la strategia poterlo giocare a vari livelli e credo sia estremamente godibile un po' da tutti insomma non c'è è chiaro è un gioco di carte quindi devono piacere se odi le carte però un gioco di carte è molto molto trasversale secondo me forse forse soffre un po' di quel problema cioè non c'è nulla all'interno del gioco che azzoppi il giocatore più scafato cioè un giocatore esperto non di questo gioco ma un giocatore che conosce molto bene le meccaniche di gestione del mazzo gestione delle risorse che ha grandi capacità di programmazione delle azioni nelle fasi successivi nei turni successivi forse parte per la tangente e poi poi ti frega tu sei scafato sulle tue ma poi ti frega la mossa dell'ubriaco cioè l'altro giocatore che non sa quello che sta facendo e ti frega le carte chiave della tua strategia ma senza saperlo cioè succede sempre così in questi giochi no non lo so non lo so forse questo sì nel senso che se metti a giocare giocatori che hanno esperienze di gioco molto diverse molto distanti sì quello magari forse un pochino ne risente però diciamo non è il il gioco con un'alea terrificante che appiana tutto ecco quello sì esatto però io credo sia molto godibile a valire e a differenza di altri giochi dove ti rubi carte questo secondo me non distruggeremo i fizie no è vero tra l'altro dicevamo portato in come novità da ms a play quest'anno di cui ringraziamo andrea e tutti gli altri uno per l'ospitalità a play perché sono stati una e due per la ha avuto tra l'altro un grandissimo successo io se devo fare una piccola critica è sul prezzo perché un pochino insomma un po' se mi pare venga di listino 35 euro che non è un po' per un gioco di carte con pochi materiali per carità belle le planci dual layer e tutto ma la critica insomma più che a ms secondo me è più all'editorio originale che ovviamente ha fatto alcune scelte iniziali sì tra l'altro credo che sia più quello anche perché mi sembra che il costo del prodotto italiano sia coerente con il costo non so se è proprio in linea o un pochino di più ma un pochino di più perché il traduttore lo dobbiamo pagare sempre però ecco un pochino quello forse in alcuni casi scoraggia dall'avvicinarsi a una scatola tutto sommato molto piccola ma come tutte le scatole della Leather Games in realtà è piccola ma è piena ad alta densità no è vero sì lo è non c'è spazio sprecato milioni di altri di altri editori avrebbero fatto una scatola 30-30 per questo gioco e 35 euro non ti sembravano tante no perché azzur ne costa 40 o una scatola ecco formato sì formato azzur insomma il quadrato medio tranquillamente qua è tutto molto pieno insomma lo vedete rimetto anche via ma è tutto molto pieno c'entrano le carte imbustate c'entrano precise perché sono i portacarte sono pieni c'entrano precisi precisi segnalini l'inserto ha pochissimo spazio vuoto tutto sommato planche infatti quello che mi diciamo ecco disturba un po' è il fatto che quando ora arriverà l'espansione a meno di non eliminare completamente l'inserto l'espansione non potrò metterla qua dentro ma probabilmente conoscendo l'Ether Games sarà una scatola della stessa grandezza magari un pochino meno spessa ma no credo sia una scatola un po' più piccola perché le carli un'espansione abbastanza piccola non lo facciamo in carte ma non partire come sempre ma sì che fatto prevenuto così almeno poi vabbè basta ci piace bello giocatelo compratelo non lo so provatelo ho detto giocatelo stavi dicendo compratelo secondo me no nel senso provatelo perché magari può non piacere a tutti provatelo e poi decidete se comprarlo o meno però io l'ho trovato molto 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 godibile nonostante non sia direttamente il mio genere giochino e carte tira e molla non è proprio il mio genere è molto carino è un gioco ad alta interazione quindi non è manco il mio genere però è molto carino tra l'altro in 3 o 4 è ovviamente molto più bastardo anche se un po' meno controllabile perché riesce a controllare un po' peggio la strategia dell'avversario ai mercatini hai ovviamente più carte fuori quindi tutto 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 Grazie a tutti